E' con grande piacere che voglio darvi il benvenuto al Mars dei Chini e raccontarvi un po' di noi. La storia della cantina e dell'agriturismo Mars dei Chini è una storia cominciata più di un secolo fa in un piccolo paesino della Val di Noon. Partiamo con la nostra base, un Brut Trentodoc, proveniente dai nostri vigneti di montagna, tutti sopra i 400 metri d'altitudine. Permane almeno 36 mesi sui lieviti, molto sapido ed elegante. Proseguiamo con il nostro Enchino Natur millesimato 2012, 100% Chardonnay, anche questo proveniente da vigneti di nostra proprietà. Natur, cioè dosaggio zero. Enchino Rosé Natur, 100% Pinot Nero, vinificato in rosa. Proviene sempre da vigneti di Pinot Nero, sopra il livello di 500 metri, con ottima esposizione. Riserva Carlo V, millesimato. Anche questo proveniente dai nostri vigneti è composto dal 60% Chardonnay e 40% Pinot Nero. I vigneti sono sempre sopra il livello del mare, almeno di 500 metri, terreni molto calcarei. Una parte di questo vino fa una fermentazione in botte di legno.